Duecento anni fa nasceva Charlotte Brunet, una delle più grandi scrittrici anglosassoni di ogni tempo. Charlotte Brunet, sorella di due altri scrittrici, Emily Brunet, Anne Brunet, una famiglia eccezionale. La sua vita ha degli accenti così chiaramente romanzeschi, ma anche drammatici, commoventi, che vale la pena forse prima di parlare dei suoi libri, ma soprattutto del suo grande capolavoro che è Geneire, parlare di lei, perché capendo lei si capisce anche la sua opera. Lei nacque figlia di un pastore protestante nel nord dell'Inghilterra, nel Yorkshire, il padre era titolare di una parrocchia povera, una casa canonica sobria, padre e madre ebbero sei figli, ma purtroppo tre bambine, tre sorelline morirono abbastanza presto di malattia polmonare e poi morì anche la mamma. Il padre rimase solo con quattro figli, le tre sorelle e il figlio maschio unico, Branwell. Questi ragazzini crebbero in questa canonica orfani di madre, il lutto era già entrato molto in quella casa e naturalmente allora non c'era mica la televisione la sera. Alle 5 della sera per sei mesi l'anno cominciava la notte su nel nord, fuori ululava la bufera, c'era il vento, la nebbia, la neve spesso e che si faceva la sera? Davanti al fuoco i fratellini Brunet imparavano a leggere perché il padre aveva molti libri e inventavano storie, scrivevano dei copioni su dei fogliettini piccoli che poi incollavano sulle spalle dei soldatini di piombo e recitavano, mandavano in scena le loro creazioni. Poi Charlotte che era la maggiore quando ebbe 18-19 anni fu mandata in Belgio per un anno, poco più, a insegnare inglese come istitutrici in una famiglia belga, si innamorò di un professore che purtroppo per lei era sposato, fu un amore del tutto platonico si suppone, ci fu un carteggio ma quella che amava era lei soprattutto, ne parlerà in modo indiretto in due romanzi minori autobiografici, tornò a casa e poi ebbe l'ardimento di scrivere un romanzo, intitolarlo Geneire e di mandarlo con coraggio a un editore, coraggio sì e no perché lo firmò con uno pseudonimo maschile, rimase segreta la sua identità e l'editore fiutando la stoffa lo pubblicò, lei non l'aveva detto al padre, allora timoroso perché il padre era un padre un po' antico, severo, entrò una sera nello studio del papà e disse papà io avrei scritto un romanzo e lui disse da qua che cercherò di decifrare la tua zampa di gallina e lei disse ma a dire il vero l'avrei è anche stampato e già pubblicato, lui non disse niente, prese il libro, per tre giorni non disse nulla e dopo tre giorni una sera a cena disse Charlotte ha scritto un romanzo e non è male, sospiro di sollievo, poi seguirono con lo stesso sistema del timore dello pseudonimo Emily che scrisse Cime Tempestose e Anne che scrisse Agnus Grey, poi Charlotte rivelò la sua identità, tutti volevano sapere chi era questa autrice di questo grande romanzo che è Jane Eyre, ne parleremo un'altra volta qui, la invitarono a Londra dove lei non aveva mai messo piede, in grandi salotti dove il grande scrittore Tackeray la volle conoscere, c'erano critici letterari, scrittori e un testimone dice che lei era intimidita, quasi un po' anche infastidita, parlava pochissimo, per rompere il ghiaccio a qualcuno le chiese Miss Bronte, le piace Londra? Lei rispose sì e no e basta, ferma lì e tornò a casa, la malattia polmonare, la tisi, tornò dentro nella famiglia e lei vide ammalarsi le sorelle Emily e Anne, le curò durante la loro agonia, le vide morire, restò sola col padre, nel frattempo si era fidanzata con un prete anglicano, giovane tanto per cambiare e si sposò poi, rimase incinta, a metà della gravidanza la malattia colpì anche lei e incinta morì, la fine della vita di tutte le sorelle dei fratelli Bronte rimase solo il padre il quale andò da un'amica carissima di Charlotte, Elizabeth Geiskel, scrittrice anche a lei e le disse per favore, per far vivere Charlotte e le sue sorelle, scrivi la sua biografia e lei scrisse, Elizabeth Geiskel, la vita di Charlotte Bronte, che per fortuna esiste anche in italiano, edizioni La Tertaruga, ed è da lì che noi sappiamo tutto quel che successe, ma la traccia viva, vivida, feconda di Charlotte Bronte vive e permane soprattutto nel suo grande romanzo che rende il libro memorabile e vivo sempre e rende lei in qualche modo sempre presente.